Sugli esiti del concorso per discipline STEM i toni sono quasi apocalittici. Si parla di strage, addirittura di ecatombe. Dati ufficiali completi relativi all'intero territorio nazionale e a tutte le classi di concorso per le quali si sono svolte le prove non ci sono ancora, ma i numeri parziali mettono in luce che certamente i candidati a non avercela fatta sono davvero tanti, soprattutto in alcune regioni. Il caso della Liguria è piuttosto clamoroso. Il numero dei candidati che hanno superato le prove scritte è inferiore ai posti a concorso, ma per la verità sembra che si tratti di una situazione del tutto particolare in quanto a livello nazionale la percentuale dei docenti respinti alle prove dovrebbe attestarsi sul valore del 30%. Peraltro sembra che non tutti i candidati del concorso STEM siano stati messi nelle stesse condizioni di partenza. Lamenta infatti un lettore della tecnica della scuola. Sono stato inviato in un paesino dell'entroterra siciliano difficilmente raggiungibile, ma soprattutto è stata davvero vergognosa la sede, una scuola con 42 gradi senza condizionatore. Una prova diventata quindi un calvario con il rischio di svenire sempre dietro l'angolo. E sull'argomento interviene anche Maddalena Gissi, leader di CISL Scuola, che parla invece di prove tarate male e afferma delle due l'una o il nostro è un sistema che si affida irresponsabilmente per una parte considerevole del personale a veri e propri incapaci, che si è disponibili a tenere in servizio per anni e anni a patto che non chiedano di essere stabilizzati, oppure ad essere tutt'altro che affidabile è proprio il meccanismo di selezione utilizzato, sulla cui giusta taratura è lecito e dovrei dire doveroso, avanzare almeno qualche dubbio. E così, come da tradizione, anche questa volta stanno già nascendo gruppi di docenti che intendono percorrere la via giudiziaria per tentare di sovvertire l'esito delle prove. Il punteggio minimo richiesto per lo scritto è infatti 70 su 100, ma c'è chi fa osservare che la sufficienza è 60 e quindi non si capisce perché si debba arrivare proprio a 70. Il passaggio successivo è scontato, ci rivedremo in tribunale, dicono in tanti, che lanciano già una richiesta ben precisa, a mettere con riserva alla prova orale tutti coloro che hanno messo insieme più di 60 punti senza però raggiungere i 70. Per la verità bisogna ricordare che è la legge stessa e precisamente l'articolo 59 del decreto 73, il cosiddetto sostegni bis a stabilire che si passa lo scritto solo con un punteggio minimo di 70. Inoltre va detto che lo stesso problema era stato sollevato anche in concorsi precedenti, ma il Tar non ha mai dato ragione ai ricorrenti, osservando che rientra nella discrezionalità della amministrazione stabilire i criteri per il superamento delle prove concorsuali. Il tema è di grande attualità, quindi continueremo a tenervi informati sia su questo canale sia sul portale www.tecnicadellascuola.it Voi continuate a scriverci, a mandarci le vostre lettere, le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie. 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 Grazie.